Carissimi OrgoFan, salve! Vi ringrazio sempre perché mi seguite dove vi divertite. Instagram, Facebook, YouTube. YouTube ormai è la vostra abitazione, ricordatevi. Una domanda che mi fate è quella del lobby dell'orto. Qualcosa la faccio, sicuramente. Io adesso sto tagliando un po' di erba perché è ricresciuta. Quindi mi sto divertendo. Venite appresso a me, guardate. Grazie. 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 E qui termina il mio taglio dell'erba. Vi ringrazio per l'attenzione, ci siamo fatti un giretto insieme, un abbraccio forte, ciao Urbufan, seguitemi sempre sui social, ciao, continuate con i cuoricini, con le stelline eccetera eccetera, ciao a tutti.